Bonjour mes amis, sono di nuovo alle prese con una festa in maschera e di nuovo il tema è anni venti. È un tema che adoro, proprio come il protagonista di Midnight in Paris, lo scrittore Gilles Owen Wilson. Ed è proprio il film di cui voglio parlarvi oggi, opera di Woody Allen uscito nelle sale cinque anni fa. Comincio da una frase pronunciata da Katie Bates che interpreta Gertrude Stein. Il compito dell'artista non è di soccombere alla disperazione ma di trovare un antidoto per la futilità dell'esistenza. Da sola la frase racchiude un po' tutto il film. Non aggiungerei altro se non fosse che devo contestualizzarvi e spiegarvi cosa ci faccia Gertrude Stein all'interno di un film di Woody Allen. Bien mes amis, il protagonista è uno scrittore, innamorato des années 20, insoddisfatto della propria vita che vede in un quadro più ampio che diventa quindi insoddisfazione verso la propria epoca. È un americano a Paris, si comporta da turista perché, come tutti i turisti, trova nella città la culla perfetta, la casa ideale. Peccato che la fidanzata snob e pragmatica lo derida per quello che chiama nostalgico romanticismo. Così lui tenta in tutti i modi di essere come lei, sempre realista, sempre sul pezzo, dite voi. Ma la diversità arriva allo scoccare della mezzanotte e Gilles diventa una sorta di cendrillon perso nelle rue parisienne recuperato dalla storia della letteratura. Prendetemi alla lettera e Gilles incontra Figerald, Zelda, Hemingway, Picasso, Bignuel, Man Ray, Dalì. E fin ci fa vedere e catturare i limiti del sogno, di quello spazio che Gilles, e forse l'essere umano in generale, cerca di escludere dalla realtà per ringabbiare in confini ben precisi. Il critico Federico Gironi ci suggerisce invece cosa sono sogno e realtà. Realismo è aver voglia di sognare, avere coraggio di portare il sogno nel presente e nella vita vera. Di capire che se una donna è sbagliata e un'altra è solo utopia, ce ne deve essere una terza che è giusta, che condivide i nostri sogni, ma che sogno non è. Di vivere la vita con idealismo, ma senza velleitarismi. E quando un giovane Hemingway combattivo e mangio chiede se è mai andato a caccia di qualcosa, Gilles nel primo slancio di audace e ironia risponde sì, di buoni affari. Allora noi capiamo che Gilles è guarito dalla nostalgia, ma non solo, dalla viltà che lo accompagnava, dal paraocchio illusorio che portava nella vita reale. E non ci stupisce che lasci Adriana nel suo proprio periodo d'oro, la Belle Époque, a discutere un tavolino con Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Degas, perché in fondo il nostro ideale è sempre nel passato. Non ci stupisce che molli la quasi-sposa Inè senza troppo arrabbiarsi per i ripetuti tradimenti. Non ci stupisce che guardi la Senna col sorriso e che accolga la città e la donna che ha davanti con lo sguardo al presente e la sensazione di futuro. La contessa mi dice sì, bravo Allen per questo film con elementi ben dosati di ironia, cultura e vita. Adesso devo proprio andare. Ambregio, la mantella!